Sono stati sorpresi in A1 con documenti falsi e tutto il necessario per mettere a segno dei furti. Per questo sono stati arrestati dalla polizia stradale di Arezzo un 29enne ed un 18enne, entrambi di nazionalità cilena. E' successo ieri pomeriggio attorno alle 18.20 quando in carreggiata Norda gli agenti hanno svolto un controllo sui passeggeri di una Peugeot 108 con targhe italiane e con due persone a bordo proveniente dal casello di Roma Norda. Il conducente ha esibito agli agenti della sottosezione di Battifolle una patente di guida ed un passaporto peruviano mentre il passeggero ha mostrato un passaporto argentino. I poliziotti però hanno subito notato che quei documenti avevano qualcosa di strano. Sono così scattati ulteriori accertamenti e è stato eseguito un accurato controllo sui documenti attraverso la lampada di Wood ed un microscopio ad alto ingrandimento accertando che erano inequivocabilmente falsi. I due giovani sono stati fotosegnalati e così gli agenti hanno scoperto che si trattava di due cittadini cileni con a carico piccoli precedenti di polizia. E' stata quindi eseguita anche una perquisizione personale. Sono così saltati fuori i vari utensi di come picconi, privi di manico, spadini, martelli e cacciaviti. I due sono stati arrestati per possesso di documenti validi per l'espatrio falsi e denunciati anche per aver fornito false generalità agli agenti e per il possesso di strumenti atti allo scasso. Il conducente infine è stato anche sanzionato con 5.000 euro di multa perché il volante è senza patente di guida.